Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Giulia Delellis e Tony F. Un amore inaspettato Giulia Delellis e Tony F. sembrano essere al centro di una storia d'amore o almeno di una flirtazione, stando a vari indizi palesi ma non definitivi. Nonostante siano stati sorpresi insieme dai paparazzi in diverse occasioni e abbiano condiviso dolci immagini sui social media, la natura esatta del loro rapporto rimane un mistero. Durante una recente intervista, l'influencer ostiense ha rivelato di non sentire il suo cuore troppo solo. Inoltre, il 14 settembre Giulia Delellis ha pubblicato una serie di foto in cui appare in compagnia del rapper, alimentando ulteriori sospetti. Un particolare like al suo post da parte di Belen Rodriguez, acerrima nemica di Giulia, ha aumentato ulteriormente l'interesse intorno alla vicenda. Giulia Delellis e Belen Rodriguez non hanno mai avuto un buon rapporto. Le due influencer hanno sempre mostrato apertamente il loro distacco reciproco, alimentato forse da tensioni di natura professionale. Tuttavia, recentemente sembra che l'atmosfera tra loro sia cambiata. Giulietta e Belu si sono addirittura viste al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser qualche settimana fa, con Tony F. presente. Questo incontro suggerisce un miglioramento nei rapporti tra le due celebrità di Instagram, come dimostra il like per se Rodriguez ha Delellis. Sembrerebbe quindi che le tensioni da Psemano, Fette, Vette, Nessiano.